ciao a tutti e ben svegliati bentornati in questo video cosa mangio in un giorno siamo dalla mia colazione come al solito qui sto facendo sto preparando il tè allora questo è un tè particolare si chiama anastasia è un tè di kusmiti un tè nero col sentore di agrumi è molto buono veramente profumatissimo ed è appunto uno dei miei tè preferiti da kusmiti insieme anche al principe vladimir qui ho preparato dei pancake ma non li mangio tutti ne mangerò solo uno e sono dei pancake con sulla marmellata di fragole ecco qua spalmato poi di marmellata questi sono dei pancake che compro già fatti al supermercato e questa è la marmellata che mi piace buon mamà è una buona marmellata ci sono in mezzo anche dei pettini di fragole qui invece c'è l'avanzo di una torta che ho fatto io è una lemon tart ovvero una torta al limone vi lascio il link alla video ricetta è un pochino laboriosa però è veramente ottimo il risultato perché è una torta freschissima con la crema appunto di limone questo invece è il gold collagene quello che sto prendendo ormai ogni mattina voglio fare questa prova questo è un concentrato di vitamine e collagene serve appunto per migliorare la pelle per aiutare un po anche le unghie i capelli devo dire che non so sarà un effetto placebo ma mi sembra che la pelle sia più radiosa vedremo alla fine della curetta che voglio fare voglio continuare a prendere queste boccettine per almeno tre mesi vediamo un po che succede e insomma questa è la mia colazione andate a sbirciare la ricetta della della lemon tart adesso io me ne mangio una fettina quindi vi saluto e ci vediamo dopo ciao eccoci allora di pranzo oggi è un pranzetto un po veloce in questo piatto ho messo del prosciutto un pezzettino di formaggio questo è tipo una mozzarella affumigata e un po di insalata poi ho messo il pane nel tostapane e adesso mi faccio una specie di sandwich appunto con il formaggio il prosciutto poi ci mettiamo l'insalata io ci metto un po di carote i cetrioli che mi piacciono ci sono tanto se sono cetrioli semplici non sono sotto olio sotto aceto no ormai un pochino di insalata e praticamente questa specie di cattedrale è il mio voilà pranzetto al volo di oggi quindi un sandwich così lo mangio bevo un po d'acqua e poi me ne vado purtroppo il sandwich non ha saziato la mia fame quindi adesso mi faccio questa zuppettina velocissima di itzu che è una zuppa vegetale in stile giapponese insomma ispirato un po alle zuppe giapponese perché in mezzo ci sono dei noodle quindi degli spaghettini di riso è semplice da preparare ecco dentro c'è il cucchiaio serve per bere il brodino e poi vabbè questi sono gli spaghettini di riso che poi andremo a sciogliere tra virgolette nella nell'acqua calda perché così diventano tutti morbidi e qui c'è il brodo vegetale praticamente è una sorta di pasta ho messo tutti gli ingredienti in questa cup poi ho messo l'acqua calda basta aggiungere l'acqua calda aspettate un pochino qualche minuto e alla fine ecco questo è il risultato è molto favorito non mi piace insomma quindi spero che adesso la mia fame si calmi ci vediamo dopo ciao stasera mangio fuori sono al canary wharf e vado a mangiare in questo ristorante qua che si chiama ipudo ed è specializzato in ramen venite con me andiamo andiamo mangiamo un po di ramen caldo questa sera qui sono all'interno del locale vedete è molto carino accogliente stile proprio giapponese quando entrate tutti vi salutano con la frase giapponese anche quando uscite vi salutano adesso vi faccio vedere quello che sto mangiando la cosa che vi interessa allora qui ci sono gli antipasti che sono da condividere quindi non mangio tutta la porzione ma solo metà poi ci sono dei gyoza con il ripieno vegetale con la loro salsina e qui ci sono dei cubi di tofu un po saltati con una salsina piccante e le alghe questo invece il mio piatto di ramen è un piatto semplice ho preso quello semplice invece qualcuno ha preso quello colorazione doppia di condimento quindi dentro c'è l'uovo le alghe la cipolla i funghi e quello è quello piccante invece il mio non è piccante e niente è molto molto buono c'è anche qua l'uovo nuovo diciamo di quelli in camicia è molto corroborante se a me piace il ramen quindi se passate da londra vi consiglio il pudo ricordatevi il nome del ristorante e la serata termina qua io adesso lascio i grattacieli del canari wolf questo cielo cupo perché sta per piovere me ne torno a casa spero che il menù di oggi vi sia piaciuto se non siete iscritti che cosa dovete fare iscrivetevi al canale lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e niente ci vediamo alla prossima settimana con un nuovo menù ciao ciao ciao